Noi stiamo vivendo tempi di crisi, questo lo sanno tutti e è perfino complicato fare l'elenco di tutte le aggettivazioni che si possono usare per definire le varie dimensioni, le varie cause, i vari aspetti di questa crisi. Ma diciamolo pure, la politica è in affanno e le nostre società sono in affanno in tutta Europa. Per uscire dalla crisi noi abbiamo bisogno di recuperare fiducia in noi stessi e di recuperare la fiducia degli altri. Credo che questo sia molto importante e credo che questo sia anche il compito in cui in questa fase politica così complicata, così singolare fuori degli schemi ci si impegna da molte parti, da parte del Governo e da parte di varie formazioni politiche, sempre cercando e io vi auguro trovando le vie di una rigenerazione della politica di cui abbiamo assoluto bisogno. Credo che il cinema possa contribuire a tutte e due le cose, a ridare a noi fiducia in noi stessi e a riguadagnare la fiducia degli altri.